Jay Cutler, quattro volte Mr. Olimpia, però c'è un mistero che alleggia su di lui, ovvero il suo lower back. Jay Cutler ha avuto una carriera molto lunga, quasi più di 12 anni di carriera, fece la sua prima apparizione a Mr. Olimpia nel 1999 e la sua ultima apparizione in un contest fu nel 2013. Durante questi 14 anni ha avuto molte conquiste, molte vittorie, ma c'è un mistero che alleggia su di lui, ovvero il suo lower back, che molti si chiedono infatti cosa sia successo effettivamente al suo lower back nella schiena. Per esempio, questa qui è una foto della sua prima apparizione al Mr. Olimpia nel 1999 e guardate il suo lower back come è molto spesso, ha un ottimo spesso nella schiena, il suo lower back sembrava un lower back molto proporzionato con il resto della schiena. E ora confrontatelo con il lower back sempre di Jay Cutler al Mr. Olimpia del 2011, completamente scomparso. Sembra che il suo lower back nel 2011 sia completamente scomparso, sembra che abbia preso il volo per un'altra direzione e completamente scomparso, non c'è praticamente più lower back. Quindi mi sono chiesto, ma cosa è successo? La perdita di lower back l'ha avuta gradualmente o è venuta tutta ad un botto? Cominciamo. Questo appunto diceva Jay Cutler del 1999, il suo primo Mr. Olimpia e come dicevo prima il suo lower back sembrava molto proporzionato con l' resto della schiena un ottimo spessore, ripeto, molto proporzionato con l' resto della schiena. Questo invece è il Mr. Olimpia del 2000 Qui la foto non è che sia il massimo, la foto non è che sia al top del top però si può comunque capire che anche qui abbia un lower back non sviluppatissimo non il migliore lower back della storia, però un lower back molto proporzionato con l' resto della schiena, ha un ottimo spessore, ma con un po' di dettagli però un lower back molto proporzionato. Infatti ecco qui un confronto con il 99 e il 2000 sembrerebbe non esserci nessuna differenza sempre un lower back proporzionato Questo invece è Jay Cutler del 2001 Mr. Olimpia del 2001 anche che, come lo faccio in un altro video è la sua miglior versione a mio avviso e sempre il lower back sembrerebbe essere di un ottimo spessore ben proporzionato con l' resto della schiena e senza aver subito grosse perdite ecco qui in confronto con il 99 e il 2000 hanno però un confronto con tutti gli anni precedenti vedete che non sembrerebbe essere cambiato nulla sembrerebbe essere rimasto lo stesso lower back di prima quindi nessuna differenza, nessuna partita di lower back nel 2001 Passiamo al 2002 questa è una foto dell'Annual Classic del 2002 una delle sue migliori forme che lui appunto vinse quella gara e qui credo che sia arrivato al massimo sviluppo lo suo lower back e credo che sia il migliore back double back che abbia avuto finora confrontandolo con gli anni precedenti sembrerebbe essere il lower back più sviluppato con gli anni precedenti con delle bellissime proporzioni ottimo spessore e non sembrerebbe aver avuto perdite anzi sembrerebbe aver avuto un miglioramento del lower back rispetto agli altri anni ecco qui il confronto con gli altri anni sembrerebbe essere migliorato con un maggiore spessore rispetto agli altri anni soprattutto rispetto al 2001 e al 2000 quindi nessuna grossa perdita passiamo al 2003 no questa è una foto dell'Ironman Pro del 2003 gara che anche questa la vinse e qui si può notare una differenza di una simmetria nel suo lower back se notate il suo lower back del dorsale destro è molto più grande rispetto al lower back del dorsale sinistro quindi una simmetria importante si è agguizzato un po' l'occhio si può vedere che è molto asimmetrico ripeto il lower back destro è molto più grosso molto più spesso rispetto al lower back sinistro confrontiamolo ora con gli altri anni e si nota che c'è una grossa asimmetria nel suo lower back solo nel dorsale sinistro non vedo una diminuzione del lower back nel dorsale destro però una simmetria importante diciamo passiamo ora al 2004 che anche se la foto è un po' presa di lato con un angolo non eccellente però qui si può notare una perdita importante di lower back sia nel dorsale destro sia nel dorsale sinistro se notate ha perso un po' di lower back sia nel dorsale destro sia nel sinistro quindi asimmetria diciamo risolta però con una perdita consistente di lower back quindi possiamo constatare che dal 2004 2004 più o meno Jay Cutler ha cominciato a perdere il suo lower back ora lo confrontiamo con gli altri anni e si può vedere che ha perso una grossa quantità consistente di lower back diciamo dal 2003 al 2004 si può constatare che Jay Cutler aveva iniziato a perdere parte del suo lower back dal 2003 solo nel dorsale sinistro invece dal 2004 in entrambi i dorsalissi quindi destro che sinistro passiamo ora al 2005 siamo arrivati al 2005 e qui qui si può avere una certezza confermata che nel 2004 non è che sia al 100% dato l'angolo della foto però con quest'angolo si può capire al 100% che Jay Cutler qui stava già cominciando progressivamente a perdere il suo lower back molto più rispetto al 2004 rispetto al 2004 è molto ha uno spessore minore il lower back di Jay Cutler si è notato molto bene ecco qui il confronto con il 2004 e anche se non è chiarissimo si può capire che comunque ha perso parte del suo lower back tanto la schiena per altre parti delle schiena noto che invece è migliorato notevolmente lo spessore nel centro schiena e la separazione muscolare credo che in anno in anno sia andato a migliorarsi a parte il lower back però lo spessore e la separazione muscolare nella schiena questa è migliorata però ripeto ogni anno perde parte del suo lower back passiamo al 2006 quando vinse il suo primo misto limpia battendo Ronnie Coleman e vedete quelle righine nella zona del Christmas tree nella zona dei lombari un segno di perdita di lower di massa muscolare ci sono andate molto bene ci sono delle righine quindi ha perso tanto lower back rispetto agli anni precedenti ripeto la schiena invece la parte della schiena è migliorata lo spessore la separazione muscolare però perde continuamente anno in anno parte del suo lower back purtroppo ecco qui il confronto con gli altri anni e se lo confrontiamo il 2006 con per esempio il 2002 si può notare una perdita notevole di lower back passiamo al 2007 quando vinse il suo secondo misto limpia molto controverso in quanto avevo fatto un video doveva vincere Victor Martinez quell'anno però la definizione di Jay Carter del 2007 era così così infatti dico per quel fattore doveva vincere Victor Martinez ma comunque sempre considerando la definizione di Jay Carter qui un po' le righine nella bassa schiena si notano un po' di più si può notare però che sia un po' più spesso diciamo più spesso il suo lower back data la definizione così così quindi sembrerebbe un po' più spesso il suo lower back nel 2007 data la definizione così così ora lo confrontiamo con gli altri anni e appunto si può costantare che data la definizione così così rispetto al 2006 e al 2005 sembrerebbe leggermente un po' più spesso il lower back a mio avviso data la definizione che era così così quell'anno ora passiamo al 2008 l'anno in cui perse contro Dexter Jackson a mio avviso qui la definizione era leggermente più superiore rispetto al 2007 però non eccezionale però un po' più superiore rispetto al 2007 qui invece si può constatare che ha perso totalmente il suo lower back guardate in mezzo alla schiena sembrerebbe che ci sia un vuoto ci sia un vuoto sotto la schiena da quanto lo spessore del centro schiena i trapezi in quella zona è molto spesso però andando più in basso si può notare un vuoto un vuoto e in quel vuoto ci dovrebbe essere il lower back cosa che lui non ha e dico che in quest'anno abbia praticamente perso tutto il suo lower back non c'è più niente praticamente è vuoto sembrerebbe che ci sia un buco in mezzo ecco il confronto con gli altri anni per esempio se confrontiamo il 2008 con il 2002 si può notare che ha perso totalmente 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 nel 2002 non c'era nessun vuoto il suo lower back era di un ottimo spessore però nel 2008 ripeto aveva il vuoto nella schiena in quel vuoto ci doveva essere il lower back quindi perdita totale di lower back completamente perso passiamo al 2009 anno in cui vinse il suo terzo titolo di Mr. Olympia qui invece la definizione era nettamente migliorata rispetto ai due anni precedenti ha meno righine nella bassa schiena data la definizione notevolmente migliorata quindi righine nella bassa schiena quasi del tutto eliminate definizione molto migliore lower back però comunque carente e qui è noto anche un'altra simmetria che abbiamo già visto nel 2003 ovvero il suo lower back sinistro è più carente rispetto al suo lower back destro sembrerebbe un po' più spesso nel dorsale destro e meno spesso nel dorsale sinistra però comunque una perdita notevole è anche una simmetria notevole però la definizione rispetto agli altri anni è notevolmente migliorata ora facciamo il confronto con gli altri anni e notate che rispetto al 2008 e al 2007 la definizione è notevolmente migliorata so che la risoluzione delle altre foto non è che sia la massima però ho fatto del mio meglio per fare un confronto con gli altri anni quindi non è la massima delle foto però comunque ho fatto il mio meglio passando però al confronto definizione migliorata e righine nella bassa schiena quasi del tutto eliminate però comunque un po' di perdita nel lower back e anche una asimmetria ora passiamo al 2010 anno in cui ha vinto il suo quarto ultimo mistro Olimpia e qui la definizione rispetto al 2009 era un po' più inferiore e quindi un po' si nota che le righine sono un po' ritornate il lower back qui è totalmente totalmente scomparso anche la asimmetria è scomparso dato la scomparsa totale del suo lower back però devo dire che lo spessore nel centro schiena nei trapezzi della separazione muscolare quella è rimasta quella ogni anno è migliorata è rimasta però il suo lower back è completamente scomparso ecco il confronto con gli altri anni e anche se è un po' piccolina la foto si può notare un po' che la definizione del 2009 era superiore rispetto a quella del 2010 quindi nel 2009 aveva meno righine e era un po' più asimmetrico invece nel 2010 meno righine cioè scusate più righine quindi definizione un po' peggiorata però asimmetria tolta a casa dal fatto che ha perso totalmente sul lower back questo invece è il 2011 quando perse cioè perse arrivò secondo dietro felitte che a mio avviso non doveva neanche arrivare secondo a quello lì in piazzicata perché il fisico non li reggeva più non è la più di cattere qualche anno fa però tralasciando questo definizione scarsa un po' carente di definizione infatti vedete che le righine della bassa schiena sono notevolmente aumentate notevolmente rispetto agli anni precedenti se non è una definizione così così lower back ripeto sempre completamente sparito anche l'assimmetria che avevo detto prima nel 2009 qui è completamente sparita ha perso il lower back sia nel dorsale destro che nel dorsale sinistro quindi lower back completamente sparito e niente simmetrie ecco il confronto con tutti gli anni di jay cutler anche se le foto sono un po' piccoline però ha fatto un po' di fatica a fare il quadro se per esempio confrontiamo il 2011 con il 2002 si può notare che ha perso totalmente su lower back e per avere un'idea ancora più chiara di quanto lower back abbia perso ecco un christmas tree di jay cutler nel mister olympia del 99 versus un christmas tree di jay cutler al mister olympia del 2011 siamo notati nel 99 il suo christmas tree era un christmas tree buono con una bella forma si vede si intravede dell'albero di natale il suo lower back qui era molto spesso invece nel 2011 vuoto totale zero christmas tree niente albero di natale zero lower back quindi jay cutler aveva perso totalmente il suo lower back ecco un confronto con il suo back double bicep stessa sul corso del christmas tree perdita totale quindi abbiamo constatato che la perdita del lower back di jay cutler non è avvenuta tutta ad un botto ma è avvenuta gradualmente anno in anno a partire all'incirca dal 2004 più o meno dal 2004 io non so il motivo per questa perdita non conosco le ragioni per cui una persona debba perdere il suo lower back non ne ho idea se c'è qualcuno che invece lo sa nei commenti mi faccia sapere come mai il lower back è quella parte di muscolo che è un fantasma ovvero che può scomparire rispetto agli altri muscoli anche anche rami ha perso parte del suo lower back rispetto agli altri anni rami nel 2020 ha perso totalmente il suo lower back probabilmente farò una sorta di video simile a quello di jay cutler con rami quindi fatemi sapere cosa ne pensate e fatemi sapere se sapete come mai il lower back è un muscolo misterioso che può scomparire mettete la chiave se non avete fatto io spero che questo video vi sia piaciuto perché ho fatto una fatica enorme a fare questo video anzi e se credete che non sia il migliore cavali vostri io ci ho messo il mio meglio ho intenzione di iniziare una serie così per esempio con altri bodybuilder prenderò la loro forma iniziale la confronterò con gli altri anni della loro carriera per vedere un po' le differenze che hanno avuto nel corso degli anni quindi mettete la legge video se non avete fatto noi ci vediamo nel prossimo video hello guys ciao